Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Profste. Oggi è venerdì 13 aprile 2012, sono le 9.55 di una giornata che sui mercati è un po' particolare per una serie di ragioni che tra un attimo vedremo e che ci danno l'occasione e l'opportunità per fare un approfondimento su quello che è appunto il metodo Profste e vedere proprio sul campo come utilizzarlo e soprattutto come seguire i mercati. Quello che vedete è il mio piano di lavoro, questi sono i grafici giornalieri, poi ci sono i grafici intraday e tra un attimo avrò appunto modo di descrivere bene ciò che faccio durante la giornata e ripeto, approfittando della particolare situazione che si è venuta a creare in questi giorni con una serie di gap lasciati aperti e che vi ho segnato qua sull'Eurostox e che tra un po' analizzeremo, non tanto per comprendere cosa fare oggi o nelle prossime giornate, questo lo vedremo meglio nelle analisi settimanali, ma per avere proprio una sottospecie di guida pratica all'operatività appunto con il metodo Profste. Prima però volevo ricordarvi due cose, la prima per seguirmi, ormai molti di voi l'hanno ben compreso, Twitter è diventato, questo è il tweet deck attraverso il quale io riesco a seguire Twitter e a mandare tutti gli aggiornamenti, dicevo Twitter è assolutamente diventato il mezzo principale di comunicazione con voi, sia per la sua immediatezza e per essere anche molto adatto a quello che riguarda i mercati e il trading, dà modo anche a me di rispondere in maniera assolutamente tempestiva ai vostri quesiti in un modo che appunto è molto efficiente, in realtà sapete che io utilizzo Twitter da tempo ma solo negli ultimi mesi, anno, in Italia ha avuto quell'esplosione che ci permette finalmente di utilizzarlo in modo assolutamente efficiente. Oltre a Twitter c'è anche il fatidico Facebook che però non fa altro che riprendere le, che riprendere i tweet in automatico, quindi non chiudo quel canale perché anche se non mi piace tantissimo e molti di voi di nuovo lo sanno, l'ho già detto tante volte, non vedo un grosso futuro per Facebook anche se ne riconosco l'importanza e quindi appunto non chiudo il canale, ma tenete presente che quando commentate e mi scrivete su Facebook potrei non rispondere immediatamente perché lo guardo veramente di rado e questo ripeto proprio perché manca di quelle caratteristiche di immediatezza che invece sono presenti su Twitter. Su Twitter siccome si parla un po' di tutto, come vedete questa è la mia timeline, ho creato diciamo così due hashtag che ci permettono di, e permettono soprattutto a voi, di selezionare in maniera molto efficace ed efficiente tutti i tweet relativi al trading. Con l'hashtag profste voi avete modo di seguire i tweet relativi appunto al trading in italiano, mentre con l'hashtag Eurotradersring avete gli stessi tweet, le stesse considerazioni più o meno, non scientificamente, ma in inglese. Eurotradersring è un'iniziativa che insieme ad altri trader professionisti europei stiamo iniziando proprio su Twitter per avere appunto una sorta di circolo di professionisti che a livello europeo si confrontano ogni giorno sui mercati e si aiutano anche con considerazioni, scambio di opinioni, notizie e quant'altro con quell'efficienza di nuovo che solo Twitter permette. Quindi ripeto, per seguire su Twitter hashtag Eurotradersring per avere tutto in inglese, hashtag profste per avere tutto in italiano. Sotto l'hashtag Eurotradersring ovviamente troverete anche i tweet e le considerazioni di questi altri trader europei che fanno parte appunto di questo specie di nascituro, circolo a livello europeo di trader professionisti. Veniamo all'operatività. Allora è molto importante, come molti di voi sanno, avere dei piani di lavoro diciamo così statici, non dinamici, cioè non spostate le finestre all'interno del piano di lavoro ma tendete a lasciarle nel modo che più vi è congeniale ma sempre ferme. Personalmente ho un piano di lavoro con i grafici giornalieri, un piano di lavoro con i market profile che sono comunque ancora grafici giornalieri e infine un piano di lavoro che è quello che poi guardo principalmente durante il trading intraday appunto per il trading intraday. Questo è ordinato per colonne, ogni colonna vede un future, in particolare l'Eurostox, il DAX, il Bund, quelli che principalmente seguo, i future americani, in particolare il Nasdaq e l'S&P 500 e qua in alto l'Eurostox e il Fib di nuovo con grafici però solo intraday perché sono quelli dove durante il giorno mi capita più spesso di operare. Questi due grafici intraday, che sono grafici NTIC come consiglio sempre di utilizzare per time frame al di sotto dell'ora, cambiano a seconda dell'operatività, cioè se dovessi fare un'operazione ad esempio sull'S&P 500, ad esempio sul mini Dow Jones, ad esempio sul Bund, andrei a focalizzarvi questi future in questi due grafici che tengo a lato. Poi ci sono i time and sales, degli strumenti più liquidi perché il tape reading, che è una parte essenziale insieme al market profile del metodo ProfStay, necessita appunto di avere i time and sales, di averli filtrati. Questi sono gli strumenti più liquidi, S&P 500, Eurostox e Bund, tutti filtrati a 100. Cosa vuol dire? Mostrano solo le transazioni avvenute al di sopra dei 100 contratti. In rosso se c'è una pressione in vendita, in verde se c'è una pressione in acquisto, cioè se viene colpita rispettivamente la bid e la ask. Per chi di voi non dovesse comprendere quanto sto dicendo, vi rimando al sito, vera e propria miniera di informazioni, come sempre tutte gratuite. Allora due parole su come trovarle, sulla barra laterale avete ProfStay per chi inizia e quindi un post dove trovate un pochino tutto quello che può servire per seguire quanto dico e arrivare quindi a comprendere bene tutte le osservazioni che faccio. Una serie di video assolutamente importantissime e didattici sulle cose che non possono mancare alla vostra conoscenza nel momento in cui volete utilizzare o meglio integrare con il vostro metodo il metodo ProfStay. Tra l'altro parlo anche di, qui ce ne sono tantissimi, sono ordinati in ordine di visualizzazioni, comunque parlo anche di del grafico NTIC, per chi non lo conoscesse, che ripeto è uno strumento vitale, vitale per poter operare con il metodo ProfStay appunto. Parallelamente l'altro strumento che dovete e potete utilizzare laddove vogliate approfondire appunto tutto questo è il libro che trovate scaricabile gratuitamente come sempre e che è tra i posti in evidenza. Qui c'è il libro di ProfStay, gratuito e da scaricare liberamente, scritto con Guglielmo Dazzi, ormai qualche anno fa sicuramente necessita di un aggiornamento, una revisione, abbiamo in programma di farlo e di proporlo poi in formato elettronico, quindi ebook in questa nuova versione, anche se adesso sostanzialmente lo è perché voi scaricate un pdf e poi lo leggete con gli abituali ebook reader se o se preferite lo stampate come alcuni di voi fanno e lo leggono ovviamente su carta. Per quanto riguarda i corsi e gli incontri, come sempre sul blog e su Twitter, Facebook avete modo di appunto essere costantemente informati su tutte le iniziative, molti di voi mi chiedono, ecco come vedete questa è la pagina Facebook, vedete che ho sempre diverse notifiche e quant'altro che, lo ripeto, vedo raramente per cui se volete una maggior tempestività nelle risposte utilizzate Twitter che invece vedo più spesso, direi quasi costantemente. Il discorso è questo, per quanto riguarda gli incontri io ho intenzione, ancora finché perdurerà questa crisi, almeno non ci saranno i primi segnali di uscita da questa crisi, continuare a non fare corsi a pagamento, questo perché in modo molto onesto non mi sembra il momento di spendere soldi che sicuramente non sarebbero inutili, ma per una cosa che non è meno superflua, ma diciamo più semplicemente evitabile e quindi continuerò a farlo almeno finché non vedremo i primi segnali di uscita dalla crisi, a quel punto sicuramente ci sarà un corso a pagamento perché diventerà essenziale dotarsi di tutti gli strumenti necessari per approfittare quando sarà, e ovviamente speriamo presto, dell'uscita dalla crisi perché sono assolutamente convinto che se e quando arriverà sicuramente le opportunità potrebbero essere notevoli e dovremmo trovarci assolutamente preparati, ma ripeto fino ad allora tenderò a concentrarmi sui corsi gratuiti, fatti salvi i tutoring privati perché ovviamente privatamente una persona è libera di fare quello che vuole anche se vuole di investire dei soldi in conoscenza, soprattutto in questo periodo di crisi, ma ripeto questo è di nuovo un discorso a parte e che limito a chi ha già una più che solida preparazione di base, quindi ha già usufruito di tutto il materiale gratuito e dà una conoscenza del metodo profsè assolutamente avanzata e vuole aggiungere e migliorare qualcosa di già costruito, qualcosa di già solido, qualcosa di già utilizzato. Dicevo per quanto riguarda gli incontri gratuiti, per poter fare in modo che lo siano bisogna assolutamente trovare uno sponsor, uno sponsor che similmente a quello che c'è per la videoanalisi settimanale permetta di assorbire tutti i costi, lo ripeto non è mia intenzione chiedere soldi fino a quando non ci sarà una sorta di uscita dalla crisi. Al momento le giornate di trading con Stefano Vargiacchi, quindi con me, profsè non ci sono, perché? Perché in buona sostanza non c'è uno sponsor, tutti stanno un pochino tagliando i budget, soprattutto per le spese di marketing, corsi e quant'altro, però voi che siete consumatori, clienti dei vari broker potete richiederlo, perché è un vostro diritto, anche perché fate sicuramente fare ricavi ai vostri broker portando commissioni e quant'altro, quindi avete tutto il diritto di richiedere formazione, la formazione vi permette di sopravvivere sui mercati, vi permette di, come speriamo tutti, prosperare e quindi fare per i broker più commissioni e quindi più ricavi per loro. E allora, se volete, potete, e questo lo potete fare sempre, scrivere ai vostri broker, qualsiasi essi siano e richiedere degli incontri con me che siano appunto da loro sponsorizzati. Si tratta, lo sapete, di incontri che sono sempre molto apprezzati e seguiti, quindi anche, ripeto, i vari intermediari avrebbero e avranno il loro tornaconto. Giornate di trading insieme a me, si fa soltanto trading, si opera sui mercati, quindi in giornate di mercati aperti, si opera insieme con il metodo ProfStay cercando per quanto possibile di applicare insieme, e chiaramente in parallelo di spiegare anche un pochina di teoria, di applicare insieme le metodologie a mercati aperti. Io sono sicuro che siano cose utilissime, ma ripeto, è assolutamente importante trovare il modo per non far pagare a voi e non far sostenere neanche a me i costi dell'iniziativa, ma appunto farli sostenere a chi poi gioverà in qualche modo della vostra conoscenza e della vostra prolungata sopravvivenza sui mercati, perché poi sappiamo che in sintesi il metodo ProfStay propone e si propone una sopravvivenza sui mercati come primissimo obiettivo e il motto è un po' quello di sopravvivere almeno tanto quanto basta per arrivare alla conoscenza, che poi permetterà anche di arrivare oltre che al breakeven alla profittabilità. Quindi sopravvivere come primo elemento e la sopravvivenza del trader è ovvio che anche per i broker è qualcosa di essenziale e di vitale. Quindi ripeto, avete tutto il diritto di richiedere queste giornate, se vorrete farlo io poi sarò ben disposto di accettare le proposte di chi volesse sponsorizzarle. Andiamo avanti, a questo punto vediamo un pochino il discorso odierno. Allora oggi vediamo il grafico intraday, questo è un'ora, questo qua invece il grafico ntick che usiamo appunto per i time frame al di sotto dei 5 minuti e vediamo che oggi abbiamo un Bund in salita e i future DAX, future AeroStocks, gli azionari in discesa. C'è questa correlazione Bund azionari che più o meno abbiamo sempre seguito e che negli ultimi tempi si è rifatta abbastanza viva. Al di là di questo, oggi volevo richiamare la vostra attenzione su due elementi della mia operatività. Allora vediamo un pochino i grafici giornalieri. Vedete che ogni grafico ha le due righe rosse e verdi, a due righe una rossa e una verde, che sono esattamente piazzate sul massimo e minimo del giorno prima, lo vediamo qua sull'Eurostox, perché sappiamo che questi sono i livelli da tenere presenti, i livelli chiave, per poter inquadrare il tipo di operatività, ovvero meglio il tipo di ambiente di trading in base al quale ci sarà l'operatività. Perché? E lo vediamo bene anche sui grafici del market profile, di nuovo ecco l'Eurostox, fin tanto che siamo all'interno del range del giorno prima, in estrema sintesi, l'ambiente di trading è non direzionale e rimane tale fino a quando non si esce dal range del giorno prima, quindi di tipo swing, come a volte lo chiamiamo, e questo implica che il massimo del giorno prima sia un'area di vendita, laddove invece il minimo del giorno prima sia un'area di acquisto e più o meno, adesso la facciamo facile, poi se volete approfondire, ripeto, sul sito trovate tutto il materiale necessario per poterlo fare. Ecco, dicevo, in una parola poi dall'area di acquisto, area di vendita, che consentono sia di uscire dalle posizioni e sia di rappresentare zone di stop loss, sono anche zone di entrata per tendere ad un primo target che è sempre all'incirca la metà del range del giorno prima, meglio se, come è avvenuto nella giornata ad esempio di ieri, il POC del giorno prima, che molto spesso è piazzato proprio in zona centrale rispetto al range del giorno prima. Quindi, ripeto, i livelli da tenere presenti sono sempre e per primi il massimo e minimo del giorno prima, quindi le domande da porsi è dove abbiamo aperto, siamo dentro o fuori dal range del giorno prima, dove siamo ora, dentro o fuori dal range del giorno prima. Finché siamo all'interno, l'operatività è non direzionale o swing, quindi questa sopra è un'area di vendita, questa sotto è un'area di acquisto, punto. Quando si fuoriesce dal range del giorno prima e da quel momento si passa ad una, una volta che c'è la conferma, che arriva dal fatto che non solo un future indice è uscito dal range del giorno prima, ma anche gli altri di riferimento ed eventualmente anche il Bund che va in qualche modo a confermare l'operatività che vediamo e l'ambiente che vediamo sugli azionari, ecco diciamo una volta che si ha la confermata certezza dell'uscita dal range del giorno prima, l'operatività, l'ambiente di trading diventa direzionale, l'operatività diventa momentum e quindi si opera solo in una direzione, quale? Inizialmente quella di uscita, ma ricordiamo, elemento molto importante, che se quando si rientrasse nel range del giorno prima, l'ambiente di trading per quel giorno non ridiventa swing, non ridiventa non direzionale, perché rimane direzionale momentum, cambiando solo appunto la direzione, qualora si rientri nel, lo ripeto, range del giorno prima. Quindi molto importante comprendere questi elementi ed ecco perché noi teniamo sempre sul massimo e minimo della giornata precedente queste due linee orizzontali che ci fanno capire a colpo d'occhio se e quando è cambiato l'ambiente di trading. Detto questo e tornando alla situazione sull'Eurostox, vi do poi i livelli precisi di quanto sto dicendo, che sono poi i tre gap che vedete aperti e più vicini all'azione del prezzo attualmente, dico più vicini perché poi è chiaro anche qua in alto ce n'è uno, insomma è chiaro sul grafico ce ne sono altri, però questi che sono vicini vanno a condizionare fortemente l'azione appunto del prezzo di questi giorni e il fatto che siano ancora presenti tutti questi gap non è qualcosa che diciamo così dobbiamo trascurare. Perché? Perché sono tutti piccoli come dei segnali stradali sul grafico che condizionano fortemente l'operatività di chi? Soprattutto degli istituzionali perché i gap specie quelli di questi giorni che sono gap lasciati aperti per pochissimi tic sono come dei piccoli segnali che gli operatori istituzionali lasciano sul grafico per, dico sempre, potersi parlare senza telefonarsi. Questo è un elemento molto importante che finché non viene pienamente acquisito, pienamente capito, è chiaro che non vi permette di sfruttare tutte quelle informazioni che invece ci sono e sono disponibili per tutti. Io dico sempre non trattiamo gli istituzionali grandi operatori come nemici ma cerchiamo di lavorare dalla loro parte utilizzando i loro metodi e il metodo professore sostanzialmente da sempre si propone questo, cioè non vedere gli istituzionali come nemici ma sfruttarne le conoscenze e cercare di comprendere proprio attraverso un semplice grafico come in questo esempio dei gap o ancora attraverso il tape reading come sappiamo fare, perché questo è un altro strumento che è assolutamente disponibile per tutti e se saputo utilizzare ci permette di ben comprendere il comportamento degli istituzionali. Dicevo, sfruttando tutti quei segnali, informazioni che vengono lasciati da loro e per loro o meglio per chi li sa interpretare per parlarsi senza telefonarsi e i gap tra questi sono sicuramente uno degli elementi più importanti come vedremo tra un attimo. Quindi teniamo conto e presente di queste cose, chiaramente questo avviene soprattutto sui future ma poi potrete ben riportare tutte queste informazioni con le dovute modifiche ai mercati che eventualmente traderete, quindi commodities, forex, quindi valute e anche ovviamente le azioni, ma lo ripeto sui future che sono un po' lo strumento principe dal quale partire per poter ben comprendere cosa accade, i future degli indici azionari, del Bund mi riferisco ovviamente, per poter ben comprendere cosa accade in generale su tutti i mercati finanziari. Quindi mi raccomando qualsiasi sia lo strumento che poi voi effettivamente tradate partite sempre dall'osservazione dei future e in particolare quelli più liquidi, quindi Eurostoxx 50, quindi Bund, quindi S&P 500, gli altri tutti a venire, tutto in cascata. Quindi anche se si volesse poi andare a tradare il nostro FIB, che in questi giorni sta vivendo una storia a sé perché sottoperforma fortemente gli altri mercati, quindi è in questo senso è un pochino da trattare come capitolo a parte, ecco sicuramente il FIB viene dopo, così come vengono dopo anche eventualmente le materie prime, vedete il future sull'oro, i cambi euro-dollaro, ancora materie prime, il future sul crude oil e eventualmente gli altri indici come ad esempio il CAC 40 che io tengo su questo quarto schermo grafici che mi permettono di dare un occhio a quello che sta accadendo agli altri mercati che sicuramente sono importanti ma a mio avviso vengono dopo il quadro generale che proprio stocks, Bund, S&P 500 in generale ci possono dare insieme forse ai principali cross come l'euro-dollaro. Ma detto questo e tornando al discorso gap, voglio farvi vedere un pochino che cosa è accaduto in questi giorni. Allora sappiamo che dopo la fortissima negatività di settimana scorsa, culminata con la discesa, lo sappiamo bene, del 10 aprile, c'è stato un piccolo ritracciamento partito proprio con un piccolo gap lasciato aperto nella mattinata dell'11, gap rialzista, cui è seguito il 12 un altro gap che ha visto la chiusura in giornata dello stesso, il gap era questo qua piccolino, c'è stato nella giornata di ieri e ieri mattina un comportamento da manuale perché dopo il test del massimo del giorno prima, che è avvenuto in maniera molto precisa, per noi area di vendita, siamo andati poi a chiudere il gap, si è proseguiti poi al ribasso fino all'area di acquisto corrispondente più o meno al minimo del giorno prima per poi risalire e chiudere come abbiamo visto intorno a metà range. Ecco quindi il gap di ieri mattina si è chiuso, questa mattina quasi a beffare sembrerebbe i mercati, c'è un gap aperto per un solo tic, allora uno potrebbe pensare che questo non sia un elemento importante, invece lo è, capiremo perché. Anzi, quanto più sono piccoli, questo vedremo è un gap di soli due tic, tanto più sono dei piccoli segnali che, lo ripeto, vengono in qualche modo disseminati sul percorso, un po' tipo pollicino dagli istituzionali, lo ripeto ancora, per parlarsi senza telefonarsi e queste cose io le ho imparate proprio grazie all'esperienza istituzionale che ho avuto, molto solida con un fondo in due anni anche molto difficili, 2008-2009 e anche parte del 2010, diciamo con due anni di esperienza in mercati assolutamente difficili, che hanno visto prima l'acuirsi della crisi del 2007, poi il recupero del 2009, lo ricordiamo, e quindi sicuramente un'esperienza che mi ha permesso, e questa è stata una grande fortuna, non mi stancherò mai di ripeterlo, di ben comprendere il come ragionano dall'altra parte della barricata, anche se poi ripeto, barricata non è e non deve essere, perché noi dobbiamo semplicemente comprenderne i comportamenti e sfruttarli a nostro vantaggio, visto che questo con la preparazione dovuta è assolutamente possibile. Allora, il gap di stamattina si basa sul fatto che ieri abbiamo chiuso, lo vedete qui, a 2287 e stamattina il massimo è a 2286, lo leggiamo qua in alto, massimo di oggi 2286, livello di chiusura gap che corrisponde sempre alla chiusura di ieri sera, close di ieri 2287, quindi per un solo tick è presente un gap che è interno al range di ieri, perché il massimo di ieri è a 2292, insieme a quello di ieri l'altro, quindi l'area dei 2292 è un'area assolutamente importante per quanto riguarda l'euro stocks, e questo piccolissimo gap è qualcosa di cui sicuramente nel corso della giornata dobbiamo tener conto. Anche perché poi, e qui andiamo a incastrare un pochino di market profile, negli ultimi giorni, 1, 2, 3, abbiamo delle grosse concentrazioni di valore che vanno proprio a collocarsi sull'area di chiusura gap, eccolo qua a livello di chiusura gap di ieri, eccolo qua l'apertura al massimo di oggi, che per un solo tick ha lasciato sul grafico questo piccolissimo gap. Allora sappiamo che le aree di volumi rappresentano zone di attrazione del mercato se non c'è una vera direzionalità, quindi in assenza di direzionalità rimangono zone di attrazione del mercato, quindi a fronte del tentativo attuale di allontanamento dalla zona di valore, se questo non dovesse andare a buon fine, è chiaro che poi si avrebbe un ritorno a questa forte area di valore che vediamo concentrata in questa zona al di sotto dei 2.300 circa di Eurostox e il ritorno alla stessa zona di valore che in qualche modo farebbe da magnete, lo ripeto in assenza di direzionalità, vedrebbe a quel punto la chiusura di questo piccolo gap. Oltre a queste considerazioni è molto importante il discorso degli orari, quindi adesso sono ancora le 10.22, c'è questo tentativo di allontanamento dal mercato rispetto all'area del valore di ieri, ma la strada è ancora lunga per arrivare a una vera direzionalità che si avrebbe solo con la penetrazione dei minimi di ieri prima e poi a seguire quelli delle giornate precedenti. Quindi siamo in una zona sicuramente molto protetta e in un ambiente di trading che favorisce assolutamente la non direzionalità. Detto questo abbiamo però sotto, e lo abbiamo visto, un gap più ampio rialzista, un gap più ampio rialzista che si colloca sotto il minimo di ieri l'altro perché nella giornata dell'11 abbiamo il minimo a 2.242, lo leggiamo qua in alto quando vado a cliccare, allora è di nuovo minimo 2.242, chiusura della giornata precedente 2.233, quindi abbiamo una decina abbondante di tic, di gap ancora aperto al ribasso e quindi sicuramente se e qualora si penetreranno questi minimi dobbiamo tenere presente che appunto c'è questa zona che vede anche un pochino di volume, valore cumulato sulla stessa, dal quale poi è ripartito il piccolo ritracciamento che stiamo vivendo, sulla quale si andrebbe a chiudere il gap della giornata precedente. Quindi è anche probabile, chiaramente non possiamo prevedere il futuro e non vogliamo farlo, ci limitiamo a studiare sempre e solo i mercati al tempo presente, ecco perché non faccio mai alcuna previsione, perché è inutile fondamentalmente, ma potrebbe anche darsi e tracciare degli scenari invece è assolutamente doveroso e lecito, che dopo la penetrazione del minimo di ieri, la penetrazione del minimo di ieri l'altro, si vada a chiudere questo piccolo gap con questa base che sicuramente potrebbe offrire una qualche resistenza o meglio supporto, intendo dire resistenza alla penetrazione. Quindi attenzione laddove si dovessero verificare delle penetrazioni di questi due minimi, perché diciamo che tutta quest'area appunto è un'area in qualche modo di consolidamento dopo le forti discese appunto del giorno 10. E tutti questi gheppettini lasciati in giro sono nient'altro che dei piccoli segnali per degli spunti operativi, soprattutto a livello intraday, che spesso noi non comprendiamo quando vediamo ad esempio i mercati salire e poi girarsi improvvisamente o scendere e apparentemente senza motivo rialzarsi, risalire improvvisamente. In realtà, sapendoli leggere, si va sempre a colpire quei piccoli, lo ripeto, bricioline segnali che vengono lasciati sui grafici. Quindi la vera negatività si avrebbe di nuovo se e solo se si penetrassero i minimi del 10, cosa assolutamente ovvia, perché penetrando i minimi del 10, dopo aver chiuso questo piccolo gap, saremmo in una zona di direzionalità molto forte e a quel punto senza più tutti quei livelli che stiamo in qualche modo inquadrando. Al di sopra del gap lasciato aperto questa mattina per un solo tick, che quindi è sicuramente un altro elemento da tenere presente, c'è poi il gap della giornata 10 stessa, gap stavolta ribassista, lasciato aperto dal massimo del giorno 10 a 2311, fino alla chiusura del giorno 5, quindi alla chiusura prepasquale avvenuta 2313. Quindi due soli tick, lo ripeto, massimo del 10, 2311. Chiusura prepasquale del giorno 5, 2313. Per due soli tick però c'è un piccolissimo gap aperto anche qui. Ecco che allora, e analogamente a quanto detto per l'eventuale chiusura del gap ribassista qua sotto, teniamo assolutamente presente che se si dovessero mai penetrare l'alzo i massimi a 2292 di ieri e ieri l'altro, abbiamo poi i massimi del giorno 10 che potrebbero essere penetrati solo per andare a chiudere questo gap ed è per questo che a mio avviso tutta la zona di in qualche modo consolidamento andrebbe considerata come quella tra i due gap, quello del giorno 10 che è questo piccolo solo di due tick, quello del giorno 11 che è questo un pochino più ampio e rialzista. Ma per essere proprio sicuri o meglio per non sapere leggere e scrivere è meglio prendere proprio tutta quest'area dal minimo del 10 alla chiusura gap del 10 mattina come area di consolidamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che vediamo accadere all'interno di quest'area deve essere preso con le pinze, cioè non è un vero segnale. Qualsiasi movimento, e lo spettro è sicuramente molto ampio, è campo di gioco, playground per gli istituzionali perché possono andare a chiudere questo gap, possono andare a chiudere questo gap qua in alto, possono andare a chiudere questo gap qua sotto e poi invertire violentemente la tendenza, intraday ovviamente, lasciando superfatti tutti quelli che non hanno la preparazione e la conoscenza necessaria per poter ben comprendere quanto sta accadendo. Ultima considerazione è quella degli orari sempre importanti nel metodo profste, orari che sono vitali nell'interpretare quanto sta accadendo insieme a quei livelli e a quelle bricioline, a quei segnali che gli istituzionali si lasciano sul grafico. Perché un altro modo che hanno per parlarsi le cosiddette mani forti, o meglio gli investitori istituzionali, il fund e quant'altro, è quello degli orari. Quindi una rottura di un massimo, di un minimo, di un livello importante, se avviene in un orario tipo ora di pranzo. Tipicamente le due ore di pranzo sono dalle 12 alle 14 per l'Europa, dalle 17 alle 19 ora italiana per gli Stati Uniti. Ecco, una rottura che avviene in quegli orari, certamente potrebbe essere valida, ma la probabilità che lo sia è storicamente molto molto bassa. Quindi è di nuovo attenzione, perché oltre a tutto il discorso livelli e quant'altro, dobbiamo tenere presente a che ora un certo livello viene rotto. Questo di nuovo è molto ben enunciato anche nel libro, quindi vi prego se non conoscete a fondo questi concetti di andare eventualmente a studiare e a ripassare gli stessi, perché sono assolutamente vitali. Tra l'altro sappiamo bene come noi non si possa stare davanti allo schermo 24 ore su 24, ma dobbiamo dividere la giornata in più sessioni per poter poi andare a riposarci, a ricaricarci mentalmente, spiritualmente e quant'altro. Ed è quindi essenziale e vitale dividere la giornata di trading in tante sessioni più piccole e nel dovendo scegliere, è chiaro che è importante scegliere quelli dove c'è più liquidità, quelle dove c'è maggior probabilità di avere segnali non falsi. Le sessioni per quanto mi riguarda sono nella giornata 3, dalle 8 alle 11 circa, poi dipende dalle giornate, per quanto riguarda la sessione europea, apertura dei mercati europei, ed è sicuramente la migliore da tradare per quanto mi riguarda, in termini sia di opportunità, sia di relativa semplicità, perché non dobbiamo per forza andare a cercare di fare le cose più difficili. La sessione successiva è quella che va dalle 14, 14 e 30, quindi riapertura dei mercati americani, dato macro, fino alle 17, pausa pranzo americana. Questa invece è la più difficile e se nell'organizzare la vostra giornata di lavoro dovete avere del tempo libero per altri impegni, che vi consiglio sempre di avere, soprattutto se lavorativi e portano redditi certi e privi da rischio, come invece sono quelli del trading, ecco, metteteli in questo orario. Voi avete la possibilità dalle 11 di mattina fino alle più o meno 19, quando c'è poi la sera americana, di avere tutto il tempo per dedicarvi alla vostra professione e a ricavare altri redditi, appunto, da altre occupazioni e professioni. Redditi certi che vi consentono poi nel money management generale, ma di nuovo sono cose di cui parliamo tantissimo nel libro e tante volte, ecco, vi consentono appunto di fare trading poi con una maggior sicurezza, perché poi essere ben capitalizzati vuol dire, in una parola, poterselo permettere. Ecco allora che la sessione americana che va dalle 14 circa fino alle 17.30, alle 17 è sicuramente la più competitiva, e quindi quella che eviterei in maniera sicuramente, dovendo fare una scelta, e infine la sessione serale americana che va dalle 19 circa fino alle 22, in realtà un po' prima delle 22, quindi 21.45, 21.40, perché è meglio evitare la chiusura americana, dove, lo sappiamo, spesso possono esserci inversioni repentine di trend per la chiusura delle varie posizioni. Ecco che quella può essere di nuovo un'opportunità, anche se in realtà negli ultimi mesi con la crisi dell'eurozona i mercati americani iniziano ad avere una vita abbastanza a sé stante rispetto a quelli europei, quindi S&P 500 e Nasdaq, che sono sicuramente influenzati e influenzano quelli europei, ripeto, negli ultimi mesi la cosa è avvenuta in maniera un pochino limitata, ed è per questo che anche nell'analisi settimanale non li stiamo trattando, come invece giustamente meriterebbero, perché lì si vede una ripresa che da noi, o almeno gli inizi della stessa, che da noi stenta ancora a purtroppo mostrarsi. Benissimo, detto tutto questo, spero che questo video vi sia utile, eventualmente se non avete compreso i concetti potete riguardarlo, riguardarne alcune parti, per comprendere ancora meglio l'operatività con il metodo PROSTE, quella operativa, quella reale, quella vera. Come sempre ci sono le videoanalisi settimanali, oggi è venerdì, quindi stasera avremo sicuramente l'appuntamento fisso settimanale, ma questa mattina ho voluto realizzare questo video che è quasi un po' senza tempo, nel senso che è un video che potrete guardare e riguardare, proprio per ben comprendere come opero quotidianamente. Su Twitter poi abbiamo modo di rimanere in contatto costante e il mezzo si sta rivelando, grazie proprio alla diffusione che sta avendo in questi ultimi mesi, barra anno, un'efficacia che in Italia non aveva mai avuto prima, e questo non può che allietarmi, visto che da tempo lo utilizzo e sono convinto della sua assoluta validità e superiorità, rispetto anche a tutti gli altri social esistenti. Ecco che quindi abbiamo veramente tutti gli strumenti per poter proseguire questo viaggio insieme sui mercati nel trading, verso appunto la conoscenza e il trading professionista. Per quanto riguarda gli incontri, lo ripeto, siamo in cerca di uno sponsor, quindi potete scrivere ai vostri broker e chiedere queste giornate di trading reale che sicuramente avrò piacere di fare. Ed è tutto esclusivamente dovuto al fatto che, lo ripeto, sotto crisi, non mi sento di chiedere alcunché a ognuno di voi, perché non è periodo, cosa che poi magari, per quanto riguarda, lo ripeto, gli incontri a pagamento faremo quando e se inizieremo ad uscire dalla crisi, perché allora, e lo ripeto, secondo me sarà veramente necessario cogliere le grosse opportunità che sicuramente ci saranno, anche se di nuovo è vitale arrivarci e sopravvivere fino a quel momento e per farlo niente di meglio che investire in conoscenza e farlo attraverso i tanti strumenti gratuiti che appunto sul sito, via Twitter, con i vari video, ogni volta vi offro. Grazie a tutti, come sempre, per apprezzare e seguire questa che è la mia didattica e il mio sforzo di, lasciatevi dire, trasmissione della conoscenza per quanto riguarda i mercati, il trading e l'operatività e appuntamento a tutti, a presto, sempre e soprattutto su Twitter e poi con i vari video, sul blog ed eventualmente anche su Facebook.